L'Innovation Village è un'iniziativa che arricchisce la quantità di iniziative che noi annualmente facciamo in Campania sui temi dell'innovazione, dei giovani talenti, delle start-up. Un lavoro straordinario fatto dalla regione Campania, dall'assessorato all'innovazione, retto tanto bene dalla dottoressa Fascione e che ha fatto sì che la Campania diventasse la prima regione in Italia per start-up innovative e giovanili. Questi risultati si ottengono grazie a un lavoro di squadra fatto di tante iniziative di valore, tra queste naturalmente c'è l'Innovation Village, il distretto aerospaziale lo sostiene, lo incoraggia e premia anche il migliore progetto presentato in ambito aerospaziale.